La terra, la nostra casa, il pianeta fortunato, la magica danza del sole e della luna, l'elemento chiave per la vita stessa. Animali bizzarri e divertenti, scene di vita quotidiana, alle volte simpatiche, alle volte emozionanti e poi location mozzafiato che si tratti di giungle esotiche o di i geli d'oceani. C'è questo e molto altro nel film intitolato Earth, un giorno straordinario, nel cinema del bel paese dal 22 al 24 aprile in occasione dell'Art Day. La versione in lingua italiana può contare sul timbro inconfondibile di Diego Badantuono, voce narrante della pellicola. Ma è difficoltà, le vediamo spesso, bisogna solo fare qualcosa per risolvere i problemi o perlomeno per rallentare il degrado. Questo film però come obiettivo non ha quello di sottolineare le difficoltà ma di sottolineare la qualità del prodotto, cioè quando si vende qualcosa. Il pianeta è la cosa più preziosa che abbiamo e quindi si fanno tanti spot per vendere prodotti di qualità e il massimo della qualità è proprio il pianeta e quindi questo film serve per uscire sereni. Poi un giorno dopo si comincia a lavorare per mantenerlo così. Il serpente non ha una vista acuta, ma accoglie ogni movimento. Produzione affidata alla BBC Art Films, immagini affascinanti perché frutto di mezzi all'avanguardia, l'opera firmata da Peter Weber e Richard Dale accende i riflettori sul ruolo che gioca il sole nel plasmare i destini delle forme di vita sul nostro pianeta, incluso l'essere umano. Grazie a tutti.